Oggi ho una voce a dir poco fenomenalmente sexy, però la partita è iniziata da poco, spero siano sotto le 30 kills, 22 a 16, adesso dentro faccio un po' il culo a tutti, anche se gli altri mi sanno proprio di tryharders folli E raga, c'è Bika nel letto vicino a me, sono sul mio letto, lui è sul suo, è morto, sta dormendo da 3 ore e non lo puoi svegliare, in qualsiasi modo, Bika, Seba, Seba, Seba hai fatto un milione di visual, no no no, Seba sei iscritto più di paio al tuo canale, no, lui è assurdo Oh, madonna che pippa, cioè lui non è che non si vuole svegliare, non si può, ma sto qua sta zitto, non si può svegliare, è qualcosa di illegale, è qualcosa di illegale, allora io qua faccio la promessa Però non c'è nessuno in sta lobby, cioè che cavolo è scusami, ok che sono 5, vabbè, adesso questo qua esce da questa, no, se faccio una quote feed o una clip in generale in questa partita Lo sveglio tirandogli un urlo nelle orecchie, che non potete capire, gli tiro un urlaccio proprio, glielo caccio cattivo, voglio vedere se si sveglia Mettete un like così faccio quote feed, no, non è vero, però non c'è nessuno, cioè, se voglio fare quote feed contro i fantasmi, cioè, non c'è nessuno Ecco, eccolo, guarda dov'è Quello che c'è sul treno, no, ma ci sono? Sale per le scale Preso, cioè Sto anche facendo 6-0 Però, finché non ci sono i nemici Ok, no Ok, aspettate un attimo che qua esco un secondo, no, dai, non ha senso, se no Faccio snapping di live, fammi vedere Lo snap, qua c'è uno qua dietro, l'ho visto perché Ho ucciso il mio compagno Ok No, eh No, raga, a mezza dal visat Da quello che lagga Da quello che lagga sono morto, raga Da quello che lagga Cioè, c'è Bica addormentato nel bosco Io potrò tirare il visat per poi fare quote feed E sono morto da quello che lagga Cioè, poi quanto laggava quel tipo Cioè, non capisco, davvero, che fastidio Che fastidio, raga Poi oggi c'ho una voce che è a dire poco vergognosa Perché sono stanco morto Mi sto per addormentare in piedi Con il joystick in mano Eh sì, vabbè Mirala un po' di più Gli ho fatto fare sei giri al mirino Prima di metterlo nel mirino a quello Poi ovviamente dopo di questa Ci facciamo ancora una seconda partita Perché è durata, se no, 30 secondi questa Oddio Oddio, cosa? Stavo già per dire oddio Per come mi aveva ucciso lui Non so neanche io come l'ho preso Entro dopo 15-2 Buono, andiamo a farne un'altra Sono già 47, raga Io entro e gioco col pompa Perché mi hanno rotto tutti le palle A partire dalla mia vita Perché davvero Sta partita è stata qualcosa di illegale Cioè, quella prima che ho fatto Prima di questa Voi non potete capire Quanto mi sono incazzato Oddio, il PDV così diamante E silenziato Non lo vedevo dai tempi DJ nasty Ho detto, vabbè Mi hanno rotto così tanto Hit marker Quelli della partita di prima Erano davvero delle robe scandalose Ho detto, io vaffanculo L'ultima parte di video La faccio con il Con il pompa Mi devo prendere la mia vendetta La mia rivincita di rabbia Oh! Tripla dai! C'è il quarto che sveglio bica C'è il quad feed E a fine video si va a svegliare bichellino Ma Dio bono ma muori Cioè scusa Cioè ho sparato due colpi Ho fatto quad feed raga Molto discutibile come quad feed Eh sia chiaro però Ho fatto quad feed Ma Dio Perché non mi metto una secondaria quando gioco col Pompa Eh se esplode il C4 Quando gioco col pompa mi devo mettere una diamine Di secondaria Più che altro il pompa non lo uso da così tanto su Black Ops 2 Ho perso qualsiasi tipo di Mira Cioè ho proprio una mira vergognosa Due No eh La stiamo vincendo raga Però ho fatto la quad feed Chi se ne frega il video può anche finire qua L'obiettivo era quello Era fare una quad feed L'ho fatta 9-2 frega niente Potevo anche fare quad feed direttamente di C4 Lo svegliavo comunque Quindi dopo raga a fine video Mia madre si è raccomandata Non lo svegliare Non lo svegliare Quindi Faremo un attimo con calma Però lo svegliamo Lo svegliamo perché Ve l'ho Promesso Madonna raga Sta partita è un bordello Non scapisce niente Ok dai Vediamo se arriva qualcuno da qua Sì Uno Due Tripla in kill cam raga Tripla in kill cam E andiamo A svegliarlo Seba Seba Saluta youtube Seba Eccolo No dai sto scherzando Dovevi salutare youtube No raga è morto E' morto Non lo posso svegliare E ho promesso che se facevo quad feed nel video ti svegliavo Sei incazzato raga Sei incazzato Io chiudo il video Bella raga Bella raga Lasciate un like Un commento Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Bella ragazzi Ciao